e io sono questo mello flow e inizia la puntata di nuovo video rappresenta e io questo è brandy e questo si chiama i wanna be down assieme a queen la tipa mc light e yoyo check this out rappresenta siamo con voi iscriviti al canale Ebbene Sim, lei è Brandy, anche se ha una voce molto matura e molto sola, ha soltanto 15 anni. Questo è stato un remix fatto insieme a MPL, qui la tiffa e YoYo, in America sta andando molto forte, ci auguriamo che anche qui in Italia i DJ lo comprano. Però torniamo sulla West Coast, anzi scusate East Coast con la Russia Social Label, Montel Jordan. Ebbene. Ebbene. R&B, Hip Hop molto pesante, dalla East Coast sulla Russia Social Label, quindi vuol dire Death Jam, Russell Stamons e tutta quella famiglia lì. Insomma, abbiamo fatto sentire due pezzi un po' soft, a questo punto accendiamo pesante, col nuovo pezzo di Method Man, Release Your Delve, Check It Up. Ascoltate, c'è una sorpresa all'inizio. Ebbene. 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 E su questo pezzo di Metal Man, Religi Jeff, si chiude anche questa puntata di Representa. Come volevo dirvi, allora, voglio ricordarvi l'appuntamento del 26 febbraio a Venezia nel deposito della stazione dei Bagagli. Scusate se ho sbagliato. Ci saranno ospiti speciali come Varity Stuff, poi ci sarà Articolo 31, poi ci sarà OCR, Nexid Fusion, DJ Flash e soprattutto anche Sanguemistro. Io sono messo sui stanziati ospiti di Aspettiamola, deposito Bagagli e stazione di Venezia dal pomeriggio fino a notte di nostra strada. Peace to the Tulum Nation. Siamo qui di nuovo con Rap Resente, domenica 19 febbraio, vi siete divertiti sabato sera, spero di sì. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione